Titoli, obbligazioni, azioni, nuovi acquisti, eh, signor Rossi? Sì. Ma se li rubassero? Se li smarrisse? O qualche altro imprevisto? O addirittura dimenticasse di riscuotere le cedole, eh? Aprito! Aprito! Ma signor Rossi, i suoi titoli li affidi in custodia alla Cassa di Risparmio. Avrà un servizio sicuro, tempestivo, garantito. E anche comodo, perché... Il servizio amministrazione titoli della vostra Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.